Siamo lodati Gesù e Maria. Carissimi fratelli e sorelle, io auguro a tutti voi un anno santo, santificato dalla grazia di Dio, dalla sua luce, dalle sue benedizioni, dal suo sostegno costante e soprattutto un anno sotto il manto di protezione della Vergine Maria che vi custodisca da ogni male, che ci custodisca da ogni male, da ogni insidia del nemico, che ci ottenga ogni bene. In effetti ogni primo giorno di ogni anno è sotto il segno speciale di Maria Santissima, Madre di Dio ed è bello che la liturgia e quindi la Chiesa faccia cominciare ogni anno sotto questa speciale presenza, speciale patrocinio, speciale, come dire, segno augurale, che è quello di Maria Santissima. Ecco, lo stesso termine, la stessa parola, lo stesso concetto di segno sono molto eloquenti. In effetti mi stava venendo questa riflessione, questo pensiero che condivido con tutti voi. Il primo giorno di ogni anno dunque è sotto questo segno materno di Maria, ma sappiamo bene come la svolta epocale, la svolta epocale che si ebbe nel IV secolo, quindi dopo due intensi secoli di persecuzioni contro i cristiani, cioè gli imperatori avevano già programmato che doveva sparire il cristianesimo, e così sarebbe successo se non ci fosse stato questo miracoloso intervento di Dio. Sappiamo un po' tutti la storia di Costantino, quindi la famosa battaglia a Ponte Milvo contro Massenzio e quel sogno premonitore la notte precedente alla battaglia, in hoc signo vinces, in questo segno vincerà il segno di croce, e poi lui fece dunque mettere segno di croce sugli standardi, in modo che fosse chiaro che lui aveva recepito il messaggio e aveva creduto che in quel segno avrebbe vinto, e così avvenne, e ci fu la svolta. In effetti finì il periodo delle persecuzioni, al cristianesimo fu dato, dato a libertà di culto, si cominciarono a costruire le chiese, le basiliche, insomma una stagione di rinascita, fine di persecuzioni e una rinascita. Noi aspettiamo una rinascita molto più grandiosa di quella del IV secolo, noi aspettiamo la rinascita, il rinnovamento epocale che si avrà col trionfo il cuore immacolato. Anche a noi il cielo ci dice in hoc signo vinces, ma attenzione, Isaia 7,14, Dio vi darà un segno, la Vergine concepirà e partorirà, e partorirà l'Emmanuele, cioè Dio con noi. Ecco il segno, la Vergine concepirà e partorirà. La Vergine Madre ogni primo dell'anno inizia con la solennità della Madre di Dio, che sei Madre di Dio e perché appunto lei si è compiuto questo segno profetico. Ecco allora che veramente la Vergine è il segno, in hoc signo vinces, noi vinceremo nel segno di Maria, non perché lei soppianti la croce o adesso inizia una nuova religione, non va bene più quella cristiana, no, perché nei tempi catastrofici in cui ci troviamo, nei tempi drammatici, Dio ha scelto di inviare lei, Dio ha scelto che le sorti, ha deciso così, che le sorti del mondo devono essere ristabilite, ci deve essere questa, sì, questa svolta epocale attraverso l'intervento di Maria, già corredentrice del genere umano e ora attraverso la sua presenza, la sua opera deve arrivare il trionfo del cuore immacolato, in hoc signo vinces, nel segno materno di lei, nel segno di Maria. La sua presenza viva e operante è veramente la garanzia della vittoria. La nostra battaglia è una battaglia peculiare, perché di solito nelle battaglie che si combattono la sorte è sempre indecisa, non si sa quale delle due parti vincerà. Invece nel nostro caso abbiamo questa grande verità, che noi sappiamo già che noi vinceremo e vinceremo in hoc signo, nel segno della croce, ma attraverso Maria, nel segno di Maria Santissima, oggi più presente che mai. E allora mentre, volevo dire anche questa cosa, quindi con la Madonna veramente con questo suo segno protettivo si può andare ovunque, si può fare qualsiasi cosa, nulla sarà impossibile, più forte di un esercito avessili spiegati, chi è con lei è più forte di un esercito avessili spiegati, in hoc signo Vinces. Mentre stavo riflettendo su queste belle e devote cose, una persona che ritengo una persona assolutamente di profonda pietà, che quando ha queste, chiamiamole intuizioni, vengano veramente dall'alto, dal buon Dio, mi fa pervenire un messaggio che io, diciamo, faccio echeggiare e che chiedo anche a voi di fare echeggiare, diffondendo quanto è più possibile veramente questa comunicazione, chiamiamola più precisamente magari questa indicazione, che sia dal cielo, che sia un'intuizione della persona, guardate, alla fine il contenuto è talmente di valore che quello che ci importa appunto è il contenuto. Questa persona mi dice di rifare oggi la consacrazione al cuore immacolato di Maria, perché quest'anno, lei dice, è cominciato in maniera strana, avendo percepito come una voce interiore che le diceva che questo è l'anno di Satana e che oggi si consacra al cuore immacolato di Maria avrà una protezione particolare. Come possiamo farlo? Possiamo farlo con una preghiera e io vi condivido qui una bella formula di preghiera che è stata anche usata, diciamo, per far consacrare tante persone al termine di un corso di consacrazione che ho tenuto sulla Radio Bon Consiglio. Guardate che la riflessione del segno in Oxigno Vinces e quella di consacrarsi alla Madonna, cioè fare l'atto di consacrazione, per avere uno speciale segno di protezione, mi sembra che siano così tanto accomunati che possano essere un unico messaggio. Sarà veramente il Signore che ci ha fatto intendere queste cose? Non lo sappiamo, non lo so, io non voglio affermare nulla, voglio solo dire che se queste cose vi possono sembrare veramente utili per la vostra vita cristiana, per il vostro in qualche modo percorso e la vostra protezione spirituale, allora recepite queste indicazioni e fatele anche avere a persone che possono essere sensibili a tutto questo. Fare oggi la consacrazione, il primo giorno dell'anno e del resto il 2024, un anno che non inizia sotto i migliori auspici dal punto di vista delle atrocità che stanno avvenendo in tutti i sensi e su tutti i campi, penso sia veramente qualcosa che il Signore, il Buon Dio che ci ha voluto far intendere. Consacriamoci alla Madonna, facciamolo con tutto il cuore e io non dubito che avremo un grande, potente e specialissimo intervento protettivo di lei perché protegga i suoi figli, perché li custodisca dal manigno e perché possiamo con lei trionfare su tutto il male nel mondo, dentro di noi, nella Chiesa, ovunque lei entra, ovunque lei è presente, il nemico è schiacciato, è calpestato, è distrutto, è disintegrato. Sia questa la nostra certezza, sia questa la nostra speranza, sia questo il motivo che ci accende nel cuore la gioia, la gioia di chissà che nonostante le tribolazioni del momento presente ha già vinto perché c'è lei in xigno vinces. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria. Siano lodati Gesù e Maria.